Sì, effettivamente lo segui da un cazzo. Ah, nella stella di Brescia, sui cover? Ogni quanto partono dall'altro, eh? Ok, ok, ok. Non ho traversato. E' un po'? Ma che non lo voti? Ecco, vedi. 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 Ma che c'è? Ma che c'è? Cosa stai facendo lì? Riprendi il buio? Provavo a fare un video, non ci vuoi fare. Sì, sì.